Il corpo forestale è destinato a confluire nell'arma dei carbinieri, secondo quanto prevede il decreto legislativo della riforma Madia, che andrà in Consiglio dei Ministri venerdì prossimo. Per Lega Ambiente e Greenpeace eliminare il corpo, che conta 8.500 dipendenti, equivale a depotenziare la tutela dell'ambiente. Questi operatori non vanno confusi con gli operai forestali, oltre 10.000 in Calabria e più di 28.000 in Sicilia, che non hanno la professionalità degli agenti del corpo e che non saranno toccati in alcun modo dalla riforma. Infatti, secondo le associazioni ambientaliste, l'accorpamento nei carbinieri taglia i costi, ma spiana la strada agli ecoreati. Anche chi si occupa di lotta al crimine organizzato, come l'Associazione Libera, si dimostra preoccupato dalla scomparsa del corpo forestale. A rafforzare i timori delle associazioni ci sono i numeri degli ecoreati in Italia, come spiegato dall'ultimo rapporto Eco-Mafie, a cura di Lega Ambiente. Nel 2014 sono stati accertati 29.293 reati in campo ambientale. Il governo sostiene che cinque forze di polizia sono troppe ed è necessario ridurle nell'ottica della razionalizzazione e del risparmio. Innanzitutto è una scelta sbagliata da un punto di vista proprio di contrasto alle Eco-Mafie e a tutto ciò che è il lavoro che la forestale ha fatto in questi anni. Proprio quest'anno sono 15 anni da quando io salvai la forestale da un altro scellerato tentativo, quello lo riuscì a sconfiggere, di dividerla forestale tra tutte le regioni italiane. Era un tentativo fatto all'epoca da Bassanini e siamo riusciti non solo a salvarla ma a rilanciarla con forza facendola diventare un'organizzazione che si occupa per esempio del contrasto alla criminalità organizzata. La terra dei fuochi intanto esplosa con tutte le gravità del caso è perché i nuclei della forestale che io istituì con decreto ministeriale sono stati capaci di fare una capacità di ricerca scientifica dei rifiuti che erano al di sotto della terra senza bisogno di scavare. Quindi questa è tutta la tecnicality, la storia del corpo forestale, il NAF, il nucleo agroalimentare forestale si è specializzato nel contrasto a tutte quelle che sono le grandi truffe contro il Made in Italy, contro la sicurezza alimentare dei consumatori. Loro hanno stati campi seminati ad OGM in Friuli Venezia Giulia e il nucleo antigeni boschivi, il NIAB che invece costituì nel 2000 che è quello che ha contrastato finalmente i piromani, gli incendiari e applicato il reato di incendio boschivo che pure noi introducemmo nel 2000. Quindi c'è una storia di 15 anni in cui è stata potenziata la capacità di difendere la natura, l'ambiente, gli altri animali, la tutela dei consumatori, quindi è una follia perdere questa caratteristica. Secondo me andava potenziato e rafforzato un corpo di polizia ambientale che è considerato un'eccellenza a livello europeo. Se alla fine il governo farà la forzatura di questo abbinamento ai carabinieri sicuramente si mette a rischio di tanti contenziosi perché un personale civile che viene militarizzato questo creerà rivolte nei sindacati e creerà contenziosi fino alla Corte Costituzionale. Quindi si rischia di paralizzare per anni o arretrare sul contrasto alle ecomafie e alle criminalità ambientali. In ogni caso se la struttura viene realizzata deve essere preservata la capacità della forestale, fare in modo che questo reparto nuovo ambientale dei carabinieri mantenga le grandi competenze del corpo forestale e secondo me venga riconosciuta questa potenzialità. Però io spero che il governo pensi ancora fino all'ultimo di non fare questa cosa solo per fare un tweet perché noi ci siamo ridotti alla politica dei tweet perché Renzi deve fare il tweet che da 5 sono 4 i corpi di polizia fa una riforma perché eliminano il corpo di polizia molto specializzato ma più piccolo quindi il più semplice da eliminare. Questo è la razio. Mentre si dovevano eliminare i 100 corpi di polizia provinciale, inserirli tutti nel corpo forestale dello Stato, aggregarvi i corpi regionali delle regioni autonome che altra cosa assurda restano in vigore. Quindi il corpo forestale nazionale finisce nei carabinieri. I corpi delle regioni autonome restano corpi forestali regionali. Cioè tutte cose fatte nel paese come di dei balocchi, cioè in cui si parla, si fanno cose per cui poi i contenziosi durano anni e poi ci sarà il percorso parlamentare in cui questo decreto dovrebbe essere valutato, poi ci sarà il Consiglio di Stato che deve valutare. Quindi noi aspetteremo anni probabilmente per questa transizione. Intanto riduciamo la capacità di impatto della forestale e probabilmente riduciamo anche l'attività dei carabinieri perché nel frattempo di questa situazione di mezzo rischiamo di... E chi brinda, come disse il generale Costa, il capo della forestale campana, le eco-mafie rischiano di brindare mentre c'è confusione nello Stato che deve contrastare i delinquenti.